Cos'hai? Non lo so, non mi sento bene Va bene, ho capito, ma dimmi che cos'hai Voglio solo che torni Purtroppo perché devo fermarmi a fare benzina Ehi, signore! Maledizione, i miei soldi! Ma... Lei perché è qui? Credo che la risposta alla sua domanda sia... Un incontro del tutto casuale Guarda, mi dispiace, sono di fretta Ho finito la benzina Non so più che cosa fare, sono qui da molto tempo Lei mi deve aiutare Questo servizio non è qui per lei Niente di quello che vede qui è per lei No, 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 no! Just the way you look Do not... 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 Do not...